Diventare un giornale di cui i trentini non possano fare a meno è l'ambizione del neodirettore di Vita Trentina Diego Andreatta. Lo abbiamo incontrato nella sua redazione, Tiziana Raffaelli. Anche il comunicatore come il buon samaritano si piega sulle ferite dell'uomo di oggi e comunica, le amplifica e cerca un pochino di salarle. Il giornalista cattolico come il buon samaritano che si prende cura del dolore altrui. Così Diego Andreatta, neodirettore del settimanale cattolico Vita Trentina, descrive il proprio lavoro. Andreatta succede nella direzione a Marco Zeni che ha guidato il giornale della diocesi per sei anni. 90 anni di vita, sei redattori, 9 mila abbonati ma non è solo un giornale, anche una radio e la versione online. Lo richiedono i tempi, credo sia un valore aggiunto quello di una redazione radiofonica ormai ventennale che si riverserà nel nostro portale web puntando ad avere ogni ora una notizia importante di quelle che sta a cuore al fedele trentino ma non solo, al lettore trentino. Anche un modo per conquistare i lettori più giovani? Questa è la grande sfida, credo. Questo non significa dimenticare i nostri fedeli abbonati, piuttosto rinfrescarli e ringiovanirli. Come sarà Vita Trentina tra un anno? Io spero che sia un giornale di cui i trentini debbano sentire la necessità, di cui non possano fare a meno.